domanda a che serve la solitudine la solitudine è una grande maestra perché getta l'individuo nella sua interiorità che è la vera realtà ma perché soffro quando sono in solitudine perché ti rifiuti di conoscere te stesso ma non posso conoscere me stesso non essendo in solitudine lo puoi vivendo più coscientemente in mezzo agli altri e per vivere più coscientemente come dovrei vivere riflettendo costantemente sulla tua vita e su quella degli altri ma io non ne sono capace ed ecco la solitudine che ti costringe a conoscere te stesso grazie grazie grazie